Una febbre molto alta, gastroenterite e diarrea e poi un infarto che non gli ha lasciato scampo. Tragedia la scorsa sera per una famiglia di bagheria nel Palermitano. A perdere la vita è stato il piccolo Ivan, un bambino di soli 11 anni. Il giovanissimo era stato ricoverato all'ospedale di Cristina dopo che i genitori avevano capito che le sue condizioni, con il passare delle ore, andavano a peggiorare. Arrivato al presidio ospedaliero, infatti, i medici non hanno avuto neanche il tempo di effettuare tutti gli esami necessari. Il cuore di Ivan si è fermato e per lui non c'è stato nulla da fare. Chiederemo alla famiglia di far eseguire l'autopsia per chiarire le cause della morte che al momento non sono chiare, ha dichiarato il direttore sanitario del civico Giorgio Trizzino. Il ragazzino frequentava la prima C della scuola media Ciro Scianna, dove la notizia giunta questa mattina ha sconvolto alunni e docenti. Siamo costernati, ha affermato la preside dell'istituto, Carmen Tripoli. Era un bambino che si faceva notare, un portatore di dolcezza. Abbiamo deciso di interrompere le attività natalizie, ha continuato, e stiamo pensando di dedicargli un'aula della scuola. Ivan ha lasciato il segno. A stringersi intorno ai familiari della piccola vittima, anche la congregazione del Santissimo Sacramento, che aiuterà i genitori donando il loculo, e il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, insieme a tutta l'amministrazione comunale. I funerali verranno celebrati nei prossimi giorni.